... Pronti? Uno, due, tre. Buono il segnale con tentativo di Donatello Sisu di rientrare a Stryker e Satanasso e Atos Grif. Tanto la squalifica per Ardimentosa Lewis è passato a condurre Stryker dopo 200 metri di gara, quindi leader Stryker che conduce nei confronti di Satanasso Fiche. Insiste all'esterno mentre più indietro si sono accodati Donatello Sisu e Atos Grif, l'attacco di Satanasso Fiche a Stryker che si oppone ma poi lascia sfilare l'avversario. Dopo 400 in 32 sulla seconda curva va a condurre quindi Satanasso Fiche su Stryker. 600 in 45 e 6, indietro Donatello Sisu e a una ventina di metri si trascina Atos Grif e gli altri con tentativo di recupero di Amore Stecca per corsie esterni. Intanto se ne vanno i primi 800 metri di gara in 1-1-3 con leader sempre Satanasso Fiche nei confronti di Stryker. All'esterno progredisce ancora Amore Stecca, chilometro completato nell'ordine del 1-17 e mezzo. Cercato di moderare l'andatura ora il leader che si trascina sempre Stryker mentre in terza posizione è Donatello Sisu. Ha spostato all'esterno anche Atos Grif che segue direttamente le mosse di Amore Stecca, poi di Trunas e via via gli altri. Partiali in 14-6 davanti alle tribune, ora allungato decisamente Satanasso Fiche a sempre di schiena Stryker a 600 dalla conclusione, all'esterno invece Amore Stecca mentre Atos Grif cerca di riorganizzarsi per venire via. In anticipo sugli avversari ma Satanasso Fiche sembra ancora bene in mano al suo interprete, seconda posizione in corda per Stryker, prova ora Atos Grif sul calo di Amore Stecca. Cavalli al completamento della piegata, Stryker che prova a venire via e c'è anche Zitrunas che avanza, completamento della curva e ingresso addirittura d'arrivo. In vantaggio si presenta Satanasso Fiche, lo scatto di Stryker a centropista, Satanasso Fiche però allunga ancora, Satanasso Fiche vince comodamente nei confronti di Stryker, al terzo è Zitrunas. 1.16.1, il raguaglio conclusivo, la vittoria per Satanasso Fiche, Tommaso Gambino, training di Daniele Cuglini, andiamo a rivedere le fasi finali del questo handicap sul doppio chilometro, il bel successo per Satanasso Fiche che conferma l'ottimo momento di forma e vince davvero in maniera molto molto facile con Stryker che non può che seguirlo al traguardo e Zitrunas che primo dei cavalli penalizzati coglie la terza piazza. Grazie.